Siamo con Olga Izzo, che è la matrina dell'artista Luigi Alde, è vero? Buonasera, siamo stasera a questa mostra bellissima allo Spazio Amira, abbiamo patrocinato l'evento di Luigi con l'associazione in Rosa Point e con ambito legale, proprio perché la mostra parla di questo dramma delle donne libiche, di cui tutti sappiamo un po' gli epiloghi tristi quando raggiungono un porto dall'altro. Onestamente, è stata una sorpresa. È un tema sociale molto importante, visto che lo sportello antiviolenza dell'agronolano, dell'associazione Rosa, della presidentessa Eliana Iorio, collega che oggi non c'è, è in realtà presso il mio studio, come primo in Rosa Point per le donne vittime di violenza, ancora di più aveva senso patrocinare questo evento che, insomma, dà questo taglio così netto. Quindi siamo qui per celebrare Luigi, che è veramente bravissimo, e omaggiarci di queste opere che vedrete. Complimenti, complimenti.